Adesso, dopo quel che vediamo succedere, chiediamo all'Erno di togliersi la benda dagli occhi, di fermarsi, di fermare le localizzazioni delle centrali e di riflettere. Se il governo non si ferma, il PD si mobiliterà a questo punto per il referendum? Certamente sì, chiediamo l'accorpamento alle amministrative. Il governo non vuole, spende 300 milioni in più. Quindi non al nucleare e sì alle rinnovabili? Non al nucleare, sia alle rinnovabili, sia all'efficienza energetica. E questa è la nostra strada, che purtroppo in questi due anni è stata abbandonata.